Buonasera a tutti e bentrovati in Affinity Dog. Questa sera voglio parlarvi di una categoria di persone che ultimamente la sta facendo padrone sui social, i volontari da tastiera. Chi sono? Difficile da definire, ma proviamo a dargli una collocazione nel mondo. Intanto chiarisco il mio concetto di volontario. Il volontario è colui che dedica il proprio tempo libero per la salvaguardia dei cani mettendosi in campo in prima persona con affidi, recuperi, sterilizzazioni e tutte le attività correlate. E chi è il volontario da tastiera? È colui che ama tutti i cani, che piange per la sorte di un cane, colui che professa i mali del mondo, ma solamente dietro una tastiera e senza aver mai messo piede in canile. Non sa gestire un box, non sa gestire una rissa, non sa fare un inserimento, ma ha solo tante parole e tante emoticons. Né agli addetti ai lavori, né tantomeno ai cani servono questi personaggi. Lasciate liberi i giga di rete a chi lavora davvero, per il resto con la tastiera dedicatevi ad altro. Un caloroso saluto a tutti gli squali del web. Marzio Sala, presidente di Affinity Dog. Marzio Sala, presidente di Affinity Dog.